Coronavirus sono 1821, le positività attualmente presenti in provincia, 20 i ricoveri all'ospedale di Belluno e 11 quelli in area non critica a Feltre, 5 invece i pazienti in terapia intensiva. Il punto su contagi e vaccini è stato fatto in mattinata dalla direttrice generale dell'azienda sanitaria bellunese Carraro in occasione della presentazione delle nuove ambulanze che presteranno servizio nel territorio provinciale. Anche nel nostro territorio stiamo registrando in questi ultimi giorni un aumento dei nuovi positivi. Le vaccinazioni, la nostra campagna vaccinale sta procedendo bene, abbiamo disponibilità ancora di posti sia per i ragazzi dai 5 agli 11 anni sia per le persone che devono fare la terza dose. Ovviamente tutte le persone che vogliono vaccinarsi trovano tutte le possibilità presenti. Un commento anche sull'attività legata ai tamponi tra il monitoraggio scuola e quello relativo ai soggetti che presentano sintomi, l'Ulse Dolomiti effettua una media di 4.000 test al giorno. Noi abbiamo la fortuna di avere una grande collaborazione dalle farmacie territoriali. I nostri punti tampone sono ovviamente impegnati sia per seguire in particolare i pazienti in sorveglianza, quelli che sono sintomatici, sia per completare il giro delle scuole. Ne stiamo facendo tanti.